Rieccoci qua ragazzi Da Luca Dibala con Viper In un nuovo video Di Rainbow Six Siege E' successo un problema di Rainbow Quando vi chiedete perchè la partita è 1-0 E' successo che Rainbow Mi ha dato errore Quindi ho dovuto far ripartire il video Quindi sto perdendo 1-0 Mi sono pensato per la partita di Twitch E' successo che Rainbow E siamo in grattacielo E si trovano in sala da te Quindi c'è Molto chiara come cosa Sì sì sala da te è davvero come noi Sì Mamma mia mamma mia No è 80 perchè devi crashare Non mi fa muovere Non mi fa muovere nemmeno a me Ah no a che vero mi fa muovere No ma Rainbow sta dando problemi C'ho 76 E mi vuol far crashare Va bene Rainbow Ok Tutto molto regolare 68 Ah c'ho sempre qui io Si però connessione io Può mandare col duro di Twitch Varro un po' le cose Di Miele Per un po' le cose Per una volta che sto contendo Cioè vabbè sto contendo quasi di Ha aperto tutte e due cose di mira Grande Vabbè quello che muore così Cioè dai E me ne è iniziato I round è già morto Ah ma c'hanno prosto E cavera Io non vorrei che ora Che sto entrando Arianna cavera salvaggia Ho smirato a meraviglia Ma quelli so dettagli E vaffanculo però L'ho preso Oh comunque scusa Adesso ho detto però Che fallo Eh prosto C'ho 50 di vita No no Sicuramente L'avranno Ancora Andiamo a vedere dove cavolo sono questi qua Se no abbiamo 46 secondi Non so Cosa Eh muori No 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 Non mi ha nemmeno ucciso Crecchino Cioè non ho fatto un po' Ma guarda dove era quello Bella tra Come la No no aspetta Rieccoci qua Siamo in Sala da te Sala da te Sì Siamo in Spam che meno questo round Lo vince Ammeno questo Dai vi chiedo per favore Sperando che non crasho come prima C'è una twitch? No Io provo E uno E due Comunque lui a proposito Prima non dovessi lasciare Prima c'avevi No no Allora mi ha dato errore del gioco Capito? Poi mi è chiusa l'applicazione Mi si è chiusa Capitemi che Vabbè Rimbolo fanno sempre meglio Non mi si troppo cuore Sempre meglio di errori Oh Bello Bello Beh le state le camere Bissing fatte per Rimbolo La Ubisoft La Ubisoft Oh ma sono tutti qua Un occhio al fioz Siamo morti Mi sa No vabbè perché sono morti Qua spachi così Spachi Qua C'è una cosa Come ti capisco qui Vai per levati vai per ti Consiglio di levarti Ecco bravo Perché se Bene Bene Se no 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 Pena Donne Sordenti Sano Bandissima Vai per dove? Zitto, zitto Va bene Ok Ovviamente Io niente ho fatto Boom, 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 boom Ciao, buonanotte Eccoci qua Allora, mi sono ripreso l'operatore Twitch L'operatrice Twitch, questo operatore Vediamo dove si trovano Non stanno sotto, solamente sopra Ma questi vogliono perdere veramente Vediamo, cerco di distruggere No, non ci arriverò mai, lo so io Di qua sì Noi secondo me l'abbiamo persa Il round che abbiamo perso È stato perché ti è lasciato Boh, può darsi Che c'eravamo uno e meno c'eravamo Quindi eravamo già sull'antaggiato in partenza Ma c'era una cosa da cercare di scompigare Pulse, mira Pulse, va bene Non mi preoccupo più di tanto perché Io ero uno che usava solo Pulse Vabbè Rompo Mira rotto Uno rotto Dove cazzo l'ha messo l'altro? Dove l'ha messo l'altro? Dai Rotto Le ho rotte tutte e due Se non lo conosci cercalo Ok qua è rotta Allora ti ho rotte tutte cose di mira O iscrivetevi Non fate che vi vedete il video E poi non vi iscrivete Allora Chi è l'ultima? L'ultima, ultima È Caveira Caveira? Ok Chi vuole essere? Cioè penso che è Caveira Sennò chi vorrebbe essere? Lu se non è Caveira Chi vorrebbe essere? O Caveira o Prosto Ho Robicco per rompera No Uno Oddio Ti ho presa a te Guarda Non ho capito un cavolo Guarda Metta la finestra Tu pensa mettere insieme alla finestra Comunque siamo in ufficio Abbiamo Mute Che è Viper Io ho Mira Di nuovo Poi c'è un Pulse Cap Can E Frost Se vinciamo questa Se vinciamo questa Ci dovremmo portare il round a casa Ora abbiamo fatto No Perché abbiamo detto Se vinciamo Ah ma Stanno messo in via Stanno messo Ma queste cose stanno mettendo Ho distrutto tutti i droni Sì però qua barricchiamo Vabbè io ho distrutto tutti i droni Quando prendono un gemma Cosa almeno lo metto E non hanno trovato nemmeno l'obiettivo Eh vabbè Vengo Mute L'ho un gemma Lo metterò qua 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 Perché Un altro gemma Lo metterò qua Cosa almeno non posso mettere Bravo La carica di Fuso Comunque secondo me Qua barricchiamo così Qua pure barricchiamo Aspetta aspetta Zitto un attimo Vai per Ma tu devi entrare Dentro l'obiettivo Per adesso no Ma l'hai piazzato Tu il coso Aspetta aspetta Che No no non l'ho piazzato Cosa almeno se devi venire Ah sì sì No vabbè Mi ha preso Non ci posso credere No voglio sapere Ma va bene Prima è venuto dietro Vabbè dai Ma che stai facendo Piper Mentre che non vengono Eh occhio che sono nelle scale Nelle scale della sala da te Quali? Quelle là? Sì Dove te li ha segnalati Ti ho visto cadere Occhio che c'è i fiusi e i blackbird Bene Spero che non hanno le cuffie Ne ho una a destra Destra No no qui No qui No qui Non sono più qua Impossibile Da co Vai però prendi a blackbird Vai però prendi a blackbird Grande L'hai visto? Vai per E' là Entra vai Entra 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 E' là L'hai visto dov'è Sdraiato Vai per Cazzo Era sdraiato Porca Eva Ma che cazzo di Mirai Dai Guarda questo Che culo Sempre Qui a te c'è Mi sono preso L'apertore Fuse E qua Si uccidono Ben No Stanno Bene Bene Qua proprio Alla grande Che sto Dove è che sto Dai Individuo Buono 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 così C'è Tachankas Madonna ma qui faccio Triss Guarda Vedere Vedere faccio Tre uccisioni così Traguardi Se lo fai Io giuro Poteva la partita Occhia Che se fa Spawn kill Vabbè col pompa Che deve fare Se lo fai con la pistolina Un po' però Comunque saranno prosta E L'altro Non lo so Che L'altro Che era Molto Lasciatemi andare A me Non rompere Non rompere Fermo Lo so Lo so E uno Va bene Ok ragazzi Questi L'abbiamo Trotto La testa Dov'era Ah stava arrivando Mi sa Ma guarda Dov'era Che scogliona Ho fatto 3-4 Ho fatto solamente Asish Tre uccisioni E un morto Io vorrei uccidere Tutte e tre Perché mi dice Non classificato Vabbè Grado ottenuto Argento 3 Ok va bene Anche va bene Ragazzi Io spero Che questa Questo video Si sia piaciuto Lasciate tanti Lecco Condividetene Ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao